A coltellamento al piazzale Roma di fine luglio scorso, scarcerati tre arrestati e ora domiciliari con la facoltà di recarsi al lavoro. Noi intervenuti per difendere il tassista, il coltello trovato a terra non era nostro. Così i tre cittadini bengalesi, arrestati in un primo tempo con l'accusa di tentato omicidio. Con il giorno seguente, ancora sotto shock, Matteo Ginetto, il tassista aggredito alle prime luci dell'alba a Venezia durante un normale turno di lavoro. I tre, dopo una prima fase in cui erano rimasti in silenzio di fronte al giudice, hanno chiesto alla procura di essere sentiti e nel corso dell'interrogatorio davanti al PM Fabrizio Celenza hanno raccontato la loro versione dei fatti. Una versione che, come detto, ha successivamente portato alla loro scarcerazione.